Ok ragazzi siamo partiti Stiamo iniziando Ok in teoria ci siamo Ciao a tutti ragazzi Intanto che aspettiamo che iniziano ad arrivare tutti Facciamo una caccia ai terroristi magari Ciao Alanna No Cosa vuol dire no? Troppo forte Allora ciao Leo Ciao Alfa Ciao Emanuele Ciao Pietro Che dici che 185 come sensibilità va bene su Rainbow Non lo so ragazzi Comunque ditemi se la musica vi dà fastidio o che la mossa La bassa Intanto qua mi arrivano un sacco di notifiche Che me ne frega me che Art Onitz Ha caricato un video Managgiat Onitz Comunque ragazzi oggi ci andiamo a fare un po' di partite nel TTS Proviamo un po' tutto Ieri ho già provato un po' con Bistard e Guagna E niente oggi andiamo avanti No non dà fastidio Perfetto Mi dai fastidio Ah su un cavallon di merda Parliamo anche un po' di cosa ne penso un po' di io Di cosa Cosa ne penso delle modifiche che hanno fatto Ah che caccia non c'è noi Io non vedo i nemici Comunque ragazzi è troppo forte Alibi Davvero Non potete capire è una roba scandalosa Con chi sei sui TTS Adesso sono da solo ragazzi Tra poco dovrebbero arrivare anche i miei compagni di team Quindi Dato che di non so sono già in TTS E niente quindi dopo ci andiamo a fare qualche partita con gli altri ragazzi del mio team Comunque ragazzi vi ricordo stiamo provando Alibi I due nuovi operatori sono Alibi e Maestro Penso che ormai lo saprete tutti Ciao Tommy Alibi is the new Ela Si 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 Anzi Direi che è anche meglio di Ela Proprio perché l'arma non ha rinculo Cioè completamente zero ragazzi Vabbè però cambiamo canzone Sempre la stessa rompe il cazzo Mettiamo questo dai Ok Eh si dai Non mazzati sempre lo stagio Cani Più qua Bella per Emanuele anche lui Come dono con la fatturazione team Niente ovviamente Dipende il dispositivo che hai Si però la musica è troppo forte Dipende il dispositivo che hai E Il telefono comunque te lo dice Con che modo Con che Che metodo di pagamento vuoi usare Bella Salvatore Ciao Dark Vabbè ragazzi dai Andiamo Andiamo a farci una libera intanto Andiamo così a vedere anche Costa dai Ok Direi che andiamo su No Dov'è la Ecco D'altro ragazzi ci sarà la playlist Per il primo mese Bella per Sloppy Mamma mia Sloppy se vuoi Vieni Fai un salto Anche tu No Eh Facciamo stare zitti Sti scemi Ma io non gioco Porca puttana Ieri ho guardato Bistard Solo perchè c'eri tu Lol Comunque Sloppy ti dicevo Se vuoi venire anche tu Ti do il TS E andiamo Vabbè quittiamo Io non ci voglio di stare qua Ad aspettare Riguardo la live di ieri Joe Ah ok ok Va bene E' arrivato anche Messi Youtube Signori E' arrivato Messi Youtube E beh Allo Matteo Youtube Signori Anche detto Per gli amici Ciao Dets Beh Vediamo se riusciamo a giocare Sta cazzo di Bistard Ok Allora Direi di fare il cangretto Con Ash Tra l'altro su DTS C'è lo Black Viper Quindi Bossi Youtube Oh Matteo Youtube Ma che vuoi Matteo Youtube E niente Quindi Adesso proviamo Sti nuovi operatori Se ci fa giocare Sto gioco Io mi sono messo Un puntino Sullo schermo Che così so Dove è Alibi E Spammo furiosamente Lì fino a quando Non esce Dai dai ragazzi Condividete la live Mi raccomando Mettete i like I like sono fondamentali Per una buona riuscita Di un buono streaming Quindi Mettete 242 miliardi di like E Cambiamo canzone Direi Questa ci sta Scossa Va bene Intanto qua c'è Smoke Alibi Vabbè dai Ok dai Questa mappa è simile A parco divertimenti No io direi Proprio di no Questa mappa invece È molto simile A Oregon Ragazzi Oregon Mi sembra un misto Un po' tra le vecchie mappe A me piace un sacco Ragazzi Sta mappa Mentre Sta mappa È veramente figa Come in live Sì sì Sul mio youtube No Donno E la drop shot Ma guarda che adesso Il drop shot È una cosa seria No a me sembra Buono Cioè il rinculo Mi piace 4 eliminati Just is the new beaulo Oh Aspetta Spammiamo Per prendere alibi Ah Presa È vero che il beaulo Pick è più easy Sì ragazzi È veramente più facile E fare il fast lean Adesso Perché Sì Musica Ma hai rotti i coglioni Mettiamo una musica Un po' più easy Magari Ragazzi Scusate intanto Se il live si blocca Però Sto cambiando la musica Perché Mi ho un po' rotto il cazzo Mettiamo questa Summer chill Playlist Easy Easy Live Prova il drop Drop shot Ragazzi Il drop shot È questo Essenzialmente Mettete Quando miri Pi toglie la mira Grazie Emanuele E quindi Niente ragazzi I diamanti di PS4 Stanno già piangendo Perché Non potranno più fare Le loro porcate Invece ragazzi Per alibi Io già Ho scoperto Una Una buona tattica Una buona tattica No? Del tipo Che metti Gli ologrammi Dietro Ai muri Bucati così E gli devi sparare Per forza Capito Non puoi non sparargli Get ready Engage cosa? cosa? no non credo ma dai ma che cazzo ma come cazzo giochi? ma porca troia nascosto un operatore un operatore un operatore ok così sono più contento partita drop shot cazzo sono morto certo che mi ricordo more vabbè e adesso mi attacco io andrei a fare il tumorello a prendere bb eh sì 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 eh? eh sì sono fighe poi tra l'altro le nuove skin ecco ragazzi dopo vi faccio vedere le nuove skin che Ubisoft mi ha droppato tipo 50.000 punti fa ma quindi dopo andiamo un po' a shoppare le nuove skin eh sì sì shoppano costano un bel po' comunque ragazzi in descrizione trovate il mio canale Twitch e su Twitch probabilmente streamo tutti i giorni quindi andatemi a followare lì che se vi piacciono le live lì le faccio molto più spesso YouTube non mi piace tanto per le live funziona male non manda tanto le notifiche quindi per chi volesse seguirmi in live tutti i giorni c'è Twitch bella Leo comunque ragazzi se devo hanno 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 spaccato ieri sera secondo hanno spaccato vabbè ragazzi ma gli outplayed cioè se devo dire la verità gli outplayed a confronto dei Leviathan cioè gli outplayed mille volte superiori c'è un cazzo da fare ragazzi BB uguale black shit l'altro ragazzi adesso con la pistola vabbè dai mi sono rotto il cazzo sta gente sei già online tu soul ok ti invito soul 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 invita invitato facciamo per un po' la playlist con solo costa e dopo andiamo anche ai ranked magari dai c'è da dire che sono riusciti a tenergli testa agli OP vabbè raga però si tanto ragazzi io vi dico che andrà così alla LAN dell'AC quest'anno ci andranno AND IDOMINA Cyberground outplayed tutta la vita c'è cosa? ah è ranked cazzo comunque ti sento pienissimo soul quindi in live probabilmente non ti sentiranno per niente aspetta che ti aumento un po' il volume ok hai fatto parla un po' ok a posto è uscito l'aggiornamento no ragazzi non è uscito questi qua sono i test i server di prova che si si possono giocare solo su pc e quindi niente vi faccio la live anche per chi non ha il pc e quindi cosa pensi della partita penta contro played io penso che finalmente i penta hanno perso ecco questa che è la mia idea e comunque ragazzi i penta hanno hanno tanti problemi contro i team brasiliani se ci pensate anche è successo l'anno scorso che hanno perso si la vabbè l'anno scorso la scorsa season che hanno perso contro i black dragons però comunque pensate anche al fatto che i penta non erano in tutti e 5 ma vabbè sti cazzi io sto giocando a como z1 eh ragazzi ho visto che su ps4 è uscito gratis però vabbè non avendo più la play non so se su pc è gratis ah pure su pc vabbè comunque è meglio pubg nel caso se uno vuole giocare quando torni a fare una partita come su ps4 non rispondo eh si ciao dalton scusa tu e paracanonare shatte a cantorachetti eh ragazzi hanno due ruoli diversi allora shatte è un è un cazzo di è una cazzo di sicurezza ragazzi cioè shatte uno vi traete la claccia cantorachetti dopo due minuti del round muore ma perché è semplicemente una una questione di ruolo cioè cantorachetti è un fragger un entry fragger mentre shatte è più un un anchor quindi ragazzi il fatto che i penta abbiano dovuto sostituire un anchor come shatte che insieme a pengu si clacciano la maggior parte dei round con cantorachetti che è un entry fragger li ha un po' destabilizzati di fatti non ho visto i penta eh comunque ragazzi vi faccio vedere un po' li faccio vedere le skin esatto magari le scioppiamo anche allora tipo per maestro per maestro abbiamo queste veramente fighe e poi ci sono queste stagionali che anche come diceva solo sono veramente carine tra tutte però devo dire che preferisco questa qua carnevale però comunque adesso compriamoci le skin quelle lì sono degli operatori intanto direi di restartare sto matchmaking perché rotti coglioni sei troppo alta la musica ragazzi ditemelo in chat a me piace la carnevale ti dico la verità invece per alibi ragazzi abbiamo questa skin qua che anche l'avevo ridocchiata ieri sera è molto carina vedete venera il golden age me la fai comprare? no niente ciao dennis quanto odio la nuova chat di gioco cioè sembra che stanno in ts con te comunque ho fatto la macro per piccare alibi basta che io la macro l'ho fatta con le freccette quindi ho detto alla tastiera che deve fare tipo dei movimenti con le freccette per piccare alibi tra l'altro ragazzi se se siete da pc e volete comprarvi un gioco usate il mio link il mio link di instant gaming per supportarmi comprate giochi a prezzi veramente bassi e supportatemi perché prendo una percentuale si esatto se sei per esempio twitch adesso puoi lasciare il tuo drone tranquillamente allo spawn eh? a far cosa non saremo mai in 10 sono su disse 4 penso di si poi lascia perdere dopo andiamo un po' in ranked voglio trovare le bowser ti ricordi il set contadino su asher minchia io me l'ero sciampato subito appena l'ho visto quello allora perché sta laggando il gioco io mi sono perso ragazzi ma qua c'è una volta ok ho ritrovato la via briccia 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 aspetta ma ci sono dei suoni su sta mappa però che sembra dei passi non l'ho sentito per esempio questo la telecamera bulletproof si c'è la telecamera antiproiettili ragazzi no non ho schiacciato stavo guardando la chat vabbè rip e raga volevo farvi vedere Ela Ela ragazzi hanno ritoccato il ring basta ragazzi ragazzi hanno ritoccato il rinculo di Ela è veramente figa adesso ma sti cazzi di ecco chi lo userà mai boh io sto nei TTS oggi sto a livello 40 l'unico gadget esce la telecamera ma ragazzi fa schifo quella telecamera non serve a niente ma proprio a niente non so se sia la cosa più inutile che abbiano inserito nell'aggiornamento cioè veramente non serve a un emerito cazzo l'unico gadget che l'unico gadget che è più inutile della telecamera è lo scudo ma per esempio cioè ma poi a che operatori le hanno dato cioè a Vigil che cosa cazzo se ne fa a cavera cosa chi se ne fa cioè hai capito che hanno tolto il filo spinato a Vigil per dargli la telecamera ma stai scherzando l'unico E' la predocca. Dove sono i nemici? Comunque è un labyrinth. E' la predocca. E' la predocca. E' la predocca. E' la predocca. Ma... Madonna che ne ho abbosto cuore. Avete visti ragazzi quanto è bello rinclodiva? Cosa? Sì, sì, ma maestro non mi piace. Forse l'unica cosa potrebbe essere sensata usarlo è pompa. Sono solo di passaggio. Bella, Raph. Poi quando ti prenderai il PC anche te, Raph, le farei anche tu queste cose e mi ruberai il lavoro di TTS tester. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. barba barba ecco dove sono io no vabbè non è morto barba barba l'ambulanza parola madonna che canzoni di merda dai forza ragazzi lasciate like che vedo siamo solo a 24 like arriviamo a 50 almeno quindi su ragazzi condividete la live io ho mandato ai vostri amici che ancora non hanno visti nuovi operatori anche se penso che tutti l'hanno visti e niente vediamo ieri ci ho provato a fare una live ieri sera ma non lo so non andava bene non so che cazzo c'ha youtube e quindi niente e niente questo è tutto allora pannarici carri a signori è quello vero eh quello degli ens bala la bala la bala la bala la bala la lancia l'ambulanza bala la bala la bala la lancia l'ambulanza ma ragazzi volete vedere libere su su sta mappa oppure volete vedere dopo ranked così a caso cerchiamo di trovare clubhouse che secondo me è la vera figata di questo aggiornamento il rework di clubhouse ditemi voi cosa volete vedere io faccio tanto non c'ho cazzo da fare oggi poi soprattutto nei tts easy facciamo quello che vogliamo io sono bronzo 1 ah bella per lui voglio vedere le skill mamma mia le skill col pompa di di le skill col pompa col pompa di maestro c'è ragazzi come 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 prese nel 2018 prendi maestro easy a posto altro che altro che i buchetti che fa smoke ma caldo porto vediamo se guardandolo normalmente o mirando cambia qualcosa No, un cazzo, quindi è stato un po' usato come tutti gli altri, senza mirare. Bala, la bala, la bala, la bala, l'antica dell'ambulanza. Ho la skin gold, sto shot, dentro l'altro. Oh. E' rampinato qua fuori, mi sa. Madonna, easy. No, no, mannaggia, no. No. Vabbè, no, no, aiuto, aiuto. No. Ciao, astro. Dai. Dai, volevo fare un like il col pompa io. Che palle. Che palle. Eh, vabbè. Eh, vabbè. Vabbè, dai, prossimo round, ragazzi, ve lo faccio vedere col pompa. Vi ricordo di passare dal mio Twitch, mi raccomando, ragazzi. E' importante. Chi non va su Twitch è un idiota. visto che c'è Twitch è il futuro. Il futuro del futuro. Siamo già in 30 su Twitch, ragazzi, follower, quindi. Vabbè, piano, piano. Dai, ragazzi, voglio arrivare a 50 follower con sta live. Dai, siete 20. Followate tutti. Followate tutti su Twitch, ragazzi, dai. Dai. Beh, chi non si followa su Twitch è un infame. Bella per Torok. Sì, vabbè, ma finisce sto round o no? Ma ha rotto i coglioni sto bandit. Porca puttana, oh. Io ti seguo già. Bella, mi... 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 Seguite tutti su Twitch. No. Non ci voglio andare su Fortnite. Ma mi sa che ci siamo già a 30. No. Vabbè, normale. Ci sono i TTS perché uno dovrebbe giocare il gioco normale. Ho attivato anche le notifiche. Bravo, Tony. Tu sì che sei bravo. Non come Soul Merda che mi manca iscritto. Soul Come ti giustifichi di questo fatto. Stai pure facendo 2-4, cioè. Ti rendi conto? Ma va cagare, già. Ma va cagare. Ma diteglielo a Soul di andare a cagare un po', ragazzi. Bella per Ricky Conti che mi ha appena followato su Twitch. Bravo, Ricky. Così si fa. Ecco, tra l'altro mi è arrivato adesso il follow di qualcuno. Andiamo subito a vedere che lo salutiamo. Bella per Matt che si è iscritto al canale. Grande, Matt. Bella, Giovanni. Anche Soul477. Follow va su Twitch. Grande Soul. Mamma mia. Andiamo in ranked, ragazzi, dai. Via, via. Ranked nei TTS. Ci ranchiamo diamante nei TTS. Vai. Pacchetto alfa pure. Leggendaria. Così. Dai, forza. Spacchettalo. Gli esse di merda che vanno lenti come la fama. Niente, dai. Una sega però anche. Bella sta mimetica. Vai, vai. Ranked, come on. Eh, ho giocato un po' ieri in ranked. Vabbè. Una l'ho quittata, tra l'altro. Bella per Clyde che si è followato su Twitch. Bravo, Clyde. Dai, ragazzi. Arriviamo a... Non so. Eravamo... Eravamo... Eravamo 30 su Twitch. Quindi... Ah no, quanti eravamo? 20, 30? Boh, non mi ricordo. Ragazzi, arriviamo a 200.000 su Twitch che... E' importante, dobbiamo fare le live lì che è più figo, c'è più cose, c'è meno ritardo, esatto. C'è Gabrielix. Scusa, ragazzi, eh. Andiamo a vedere... 33 follower, dai, ragazzi. Ci arriviamo a... Non so. Dai, 40 follower entro alla fine di sta live. Forza, ragazzi. Eh, 40 follower. Tranquillo, dai. E mi raccomando, entrate nel gruppo libero per gli iscritti di Telegram. E lì parliamo, scherziamo, sfottiamo un po' Soul che non si iscrive a Twitch. Facciamo tante belle cosette, ragazzi. Intanto scioppiamo le nuove skin che... E poi direi di aprire un po' di pacchetti alfa, dai. Facciamo uno spacchettamento epico finito male. Vai, vai, compro. 300 FPS. Va bene, il menu, ragazzi, è normale. Bella, bella per Dragonfly che si è followato su Twitch. Grande Dragon. Bella skin stagionale, mi consiglio di comprare. A me piace la Carbona... Eh, sì, la Carbona. La Carnevale. Oii, fate voi. Lui, lui spende tutti i soldi. Bella anche per Gab12 che si è followato su Twitch. Grande Gab. E niente, abbiamo trovato una sega. E intanto qua non trovo le partite, poi ci divertiamo così. Indovina che è Dragon. Bella Giovanni che si è followato su Twitch. Bravi tutti, ragazzi. Così poi... Più siamo su Twitch, più live faccio. Quindi... Ma va a fa culo, insomma. No, no, il tempo degli allenamenti c'è sempre. Al massimo stremiamo gli allenamenti. E poi, ragazzi, tra l'altro, perché molti di voi mi scartavetravano le palle. Andiamo intanto a fare quella cosa di Villa, perché se no non trovo le partite. Tanti mi avevano scartavetrato le palle con la storia di fai tutorial su come si fanno i montage e cose del genere. Quindi, tante volte, ragazzi, mi trovate su Twitch che edito proprio. Quindi, per chi volesse imparare qualcosa nell'editing o cose del genere, su Twitch avete delle live in cui edito. Quindi, io penso che sia una roba più che buona per chi vuole imparare. Quindi, poi, tra l'altro, potete farmi domande in live addirittura, quindi vi rispondo subito. Secondo me è molto più figo di fare dei video tutorial che hanno rotti i coglioni, sti cazzi tutorial. Infestavano YouTube tempo fa. Comunque noi iniziamo sempre in attacco, eh. Due coglioni. Ah, ma siamo confusata. LOL. LOL. Ciao, Federì. Povero sol Per chi volesse donare ragazzi vi ricordo c'è la super chat o streamlabs a seconda di quello che volete fare La super chat youtube si trattiene il 70% di vabbè e streamlabs invece si trattiene un po' meno Il 20% quindi lì poi è scelta vostra per chi volesse donare Se no ragazzi potete anche tranquillamente Lasciare un like che è come una donazione ragazzi Quanto costa il tuo pc? Ora ragazzi non vi posso dire un prezzo perchè i prezzi si muovono troppo Io l'ho pagato 1200 A me mi hanno detto che adesso gli stessi pezzi costano 1500 quindi ragazzi non so Si può fare dalla PS4? Cosa si può fare dalla PS4? Ah tra l'altro ragazzi c'è un easter egg su sta mappa che se sparate qua Si dovrebbero sentire dei rumori di zombie No e non così Un colpo Mi senti gli zombie? Sentite sentite ragazzi Ci sono gli zombie là dentro Facendo un easter egg di outbreak Eh quello scemo lì lancia i cosi fuori pensando che la gente ci casca Cover me! Reloading! E' una volta giochiamo a Fortnite Una volta organizziamo una live su Fortnite Il TTS? No ragazzi non esiste il TTS su PS4 Picchiamo alibi Macro Easy Manco il tempo Che spawna e picca alibi Easy Bella per Pietro che è tornato Ragazzi mi raccomando Followatevi su Twitch Link in descrizione In descrizione ragazzi Soprattutto Destrizione Trovate tutto lì sotto Tutte le cose importanti le trovate in descrizione Per chi interessasse vedere anche le stronzate che faccio su Su qualsiasi cosa C'è Instagram Tra un po' vi faccio anch'io il PC perché la play ha rotto Ti do pienamente ragione ragazzi Pienamente ragione Volete fare Sì Io vi direi ragazzi di risparmiare i soldi Per farvi Farvi il PC Se potete Tra l'altro guarda ci sta il martello di Sledge qua Vieni a vedere Che figata Eh sì perché ti fanno detto nella storia degli operatori che Sledge e gli operatori italiani Collaboravano una volta No no sono ancora amici Però se anche si sa Non lo so Cazzo lo so Bella per Alan che gli arrivano i pezzi al PC Oggi sei tutto fatto Destrizione Carbonara Quando è che avrei detto Carbonara Carbonara ho detto Cos'è che ho detto scusa Mamma mia bravo Giovanni Brava Giovanna Brava Giovanna Brava Giovanna Impattao No vabbè l'ho preso in testa Twitch Tu dici che con 300 euro mi compro un PC buono Non credo sia possibile ormai ragazzi Cioè perlomeno Rainbow su un PC da 300 euro non gira Per te Alibi la nerferanno come Ela Ragazzi palese Cioè tutti gli operatori vengono nerfati Ubisoft lavora in questo modo Li fa uscire overpowered Così tutti se li shoppano E dopo li nerfa Bella Nick Lyle Il rosso Nick Lyle rosso Vabbè Ciao Federico Bella per Davide C'è uno Snake Bella per Snake Ecco vedi tra l'altro Pronunci il tuo nome Arriva il bot a spammarti Ragazzi passate dal canale di Snake Che è quello che mi ha followato E sì che mi ha impostato OBS Quindi Se vedete le live È solo grazie a lui Ti sei preso il season pass Secondo te conviene? Sì Vabbè Allora Io ho la deluxe edition del gioco Ce l'avevo comprato Tempo fa Che ormai non esiste più Che è quella Edizione del gioco Che comprende tutti e tre i season pass Adesso non esiste più Però ragazzi il season pass Se siete dei giocatori Che giocano spesso al gioco Conviene tutta la vita Perché Giustamente Se uno gioca tanto Non c'ha voglia Di mettersi lì A risparmiare i punti fama Per comprarsi gli operatori E tutto Poi è vero che Adesso con il fatto che hanno messo Che gli accessori Sono tutti sbloccati E cose del genere È anche più facile Avere gli operatori Senza season pass Però io vi dico Magari così ogni tanto Senza season Vi ci scappa una skin Con i punti fama Vi comprate dei pacchetti alfa Quindi se giocate spesso al gioco Il season pass è tanta roba Poi il fatto Poi lì sta a voi Vedere Vedere voi come Poi dipende anche Da quanto giocate Comunque a me giocare Tutta una season Per sbloccare Degli operatori Non mi va Quindi preferisco giocare Preferisco stare così Io avevo comprato la gold E col season passano due Ecco vedi E io avevo Quando sono venuto su pc Ho comprato su instant gaming La La deluxe disc A 44 euro Posto di 100 Tutta roba Anche quel sito lì ragazzi Mi sembra vende anche i plus Per PS4 Quindi Passateci da quel sito Non è male Perché sei così cattivo Federico Non fa riter Allora 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 Io prenderei Blackbird Blackbird Cosa? Cosa? Le CDCS Che c'entra il CS Bella per Sol Che si guarda le CDCS Che gioco? Meno male Meno male Minch C'ho veramente 5 anni Che non basta Meno male Mi sta Il drone avuto 5 stuni The diffuser is now secured. Proceed to bomb's location and defuse it. Come on, Big Mac! Ah, the enemy is dead! Come on, Big Mac! Well... I don't know, I'm dead. Come on, Federico! Gli americani la chiamano iLabi. LOL per gli americani. Abbiamo vinto! GGS a casa. Vabbè, andiamo... andiamo un po' in libero. Ciao, Gabbo. Questa sarebbe la nuova grafica? In che senso è la nuova grafica? Ah, sì, è figa, ragazzi, eh. Ci sta un sacco. Ci sta entretendo? No, non ho. No, non ho. No. No, non ho. Ah, non ho. Hang Ti suchi oggi, è un po' in teni? Sì, non lo vedi che è marocchino, c'è tipo tutta nera strana. Ma adesso è andata a Roma, 45 anni. Oh, questa era anche te. Oh, Clubhouse! Vai, così ci vediamo anche la nuova mappa. Si dice mulatto. La barra è... Ah, sì, sì, questo qua è il nuovo HUD, ragazzi. Oddio, si è bugata la mappa e non la vede. Vabbè, rip. Che cazzo piglio? Ivana, dai. Non vuoi skin. Ignorante, proprio. Dalle scale, pushy. Bella, ci ho giocato prima. Eh, io mi sa che è la... Tipo la seconda volta che l'ho giocato. Ma non l'ho vista bene, perché tipo... Erano le due di notte. No, ma è cambiato tutto il piano di centro, cioè. Sopra anche è cambiato tutto, cioè. Ma anche so... Cioè, è stata reworkata veramente tanto. Se tipo sopra e in alto sul tetto, ci sono pochissime botole adesso, ce n'è solo una. Prima ce n'erano tre. Eh sì, adesso è molto più difendibile nelle site di sopra comunque, eh. Cinque secondi. Il diffusor è stato recuperato. La tua missione è di locare e diffusare una bomba. Bisogna andare a rifare tutte le strutte. Activizzare. Allora, la kitchen mi sembra free. C'è un... Che è un cosa di bana. C'è di alibi. Ottimiliciamo la botola. Ottimiliciamo la botola. Via! Dentro! Blu, per fortuna l'hanno lasciata blu, perché se no veramente... Putin è bene. Putin è vivo. su,ca,blierte,lash,pi,and,go cosa cos'è che ho scritto? e che ho scritto? mannaggia soul perchè non è libero hai capito? quindi non posso spammare a merda vabbè lascialo fare dai ragazzi adesso vi faccio vedere il pompa di maestro levati faccio io le rotation d'altro hai visto che qua c'è una finestra? chieda verso garage perchè ti ha ucciso? no dai non c'ho voglia di iniziare queste cose in live no no guarda qua tutto e tipo si può anche stare qua per esempio adesso eh potrebbe anche essere uno spot carino capito? che cosa è bene? che cosa è bene? Questo qui cos'è lo stanzione delle scope si L'hanno reso molto più grande Reloading! Swarming Matt! op for it located a bomb, you know what to do era quanto corrono più veloce gli operatori con la pistola aia ha 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 e tutto c'è anche un ritardato guardalo guardalo madonna mia oh my god that the reaction op 4 last op standing sucka blitt is my routine eeeh stop pulse you have 20 seconds man ah ma il defuser lì c'è inhuman reaction chi è entrato ciao fede lì c'è lì va Succa, bliettismo e ruti. Comunque maestro non mi piace proprio per niente ragazzi. Comunque la voce di quelli di T.S. non si sente. No raga è che FedEx parla pianissimo cioè. Se parla solo parla un po'. Chiedi di chiedere, chiedi di dire qualcosa in chat. Adesso si sente la voce di quelli di T.S. Fantastico, ho parlato per tutta la live da solo. Eh no, Snake non ho avuto tempo di vederlo, dopo lo guarderò. Comunque maestro non mi piace per niente ragazzi. Mi preferisco mille volte alibi. Ma anche maestro al pompa che sembra quello dei... Sì sì, ma non è come, non è simile perché è automatico. Ma fa schifo la, fa schifo l'arma. Silenzio? Ho chiesto scudo dietro di me che è un piccoglione. Oh no, madonna. Ma si fa pure così. Ma, ma, mi devi spiegare. Si mi ha fatto ma sparare. Pure senza vino ma sparare. Ah ma, si, tu, tu, tu. Per farmi. Vabbè, lui non muore. C'è uno di vita, uno. Vabbè. Sì, a me piacciono gli operatori veloci ragazzi. Non riesco a giocare con i lenti. Dunque ragazzi, scusate, mi sono parlato da solo per tutta la live, ma... Mi ero dimenticato di attivare l'audio degli altri. Eh, ho finito il mio bel panino. E vengo con te giusto a spaccare un po' di culo. Bravo. Adesso siamo un attimo in ranked 2-1. Comunque devo dire che mi piace un sacco la musichetta che ci hanno messo sotto. Io ho tolto la musica. Dai ragazzi, non vedo più follow su Twitch nuovi. Cos'è, abbiamo smesso di followare? Allora. Quindi qua bisogna rinforzare perché sono tutti muri distruttibili. Tutti, 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 tutti muri distruttibili, cioè... Comunque i site di sopra, ragazzi, sono diventati davvero giocabili. Finalmente... Finalmente su sta mappa non si è obbligati a giocare sempre le stesse due cose sotto e in mezzo. Finalmente anche sopra è piccante. E direi che era ora. Ma Giusto, una cosa che mi chiedo io. Era per FedEx che mi ha follow-up su Twitch. Anche se è qua. Ti è assoluto. Comunque... Una cosa che mi chiedo io. Sai quella... Nella mappa nuova che c'è quel muro che tipo dentro la botte. Eh. Quello... Muro rotondo. Ma si può rinforzare? No, no. 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 No, no, no. 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 No, no.